Ossanna al figlio Ossanna a figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna benedetto, espressioni di lode, di benedizione, di ringraziamento, di esultanza, di gioia. Domenica delle palme, domenica della festa, domenica che fa iniziare il grande traguardo di Gesù. Gesù entra a Gerusalemme, trionfalmente ma anche umilmente, paradossalmente, perché entra in Gerusalemme, entra nella gloria, entra nell'esultanza per portare a compimento l'evento della sua passione e della sua morte. Quindi duplice denominazione di questa domenica, domenica delle palme ma anche domenica della passione. Quindi sembra che addirittura i contenuti siano proprio antitedici, all'opposto. Da un lato questo aspetto trionfale di Gesù, questo aspetto glorioso di Gesù, ma dall'altra parte invece questo aspetto drammatico. Gesù sa perfettamente che sta per compiersi la grande volontà del Padre, dare la vita per la salvezza dell'umanità. E proprio questo ingresso a Gerusalemme lo porterà alla gloria della croce, ad essere elevato, ad essere esaltato, ad essere glorificato, ad essere messo lì dove può attirare ogni creatura a sé. Quindi Osanna Benedetto, Osanna Benedetto che dice la gloria, ma dice anche possiamo dire un equivoco. Questa domenica la possiamo addirittura chiamare la domenica del malinteso, perché mentre alcuni suoi amici, alcuni ritengono che Gesù finalmente sta per compiere, sta per portare a compimento il suo regno di gloria e di potere, da un altro lato c'è chi invece in questo Gesù, colui che si sta ponendo a posto di Dio, quindi è un bestemmiatore, quindi è degno di morte. Ecco gli equivoci che dicono sempre la posizione, come la creatura si pone davanti al mistero dell'amore di Dio. Da un lato c'è chi legge in chiave di potere, c'è chi legge in chiave di condanna, ma noi come leggiamo questo ingresso di Gesù a Gerusalemme nella città santa? Noi come leggiamo questo ingresso di Gesù nella nostra vita? Come colui che viene a portarci, a donarci la vita o come colui che viene a toglierci la vita? Ebbene questo ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia con lo sanna per poi nella settimana santa, il venerdì, verrà detto crocifiggilo. La stessa folla che lo ha esannato, molto probabilmente sarà la stessa folla che dirà crocifiggilo e degno di morte. Ma per Gesù tutto questo ha poca rilevanza, perché lui sa esattamente cosa sta per compiere. Gesù va con generosità verso Gerusalemme, ecco perché va in un atteggiamento di umiltà. Di fatti gli evangelisti raccontano tutti e quattro questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma oggi in modo particolare Marco ci racconta questo ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quando furono vicino a Gerusalemme, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro Andate nel villaggio, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è salito, slegatelo e portatelo qui. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i mantelli ed egli vi salì sopra. Gesù sale su un puledro. Ecco, dice proprio questa umiltà di Gesù, la mansuetudine di Gesù, la docilità di Gesù nel compiere la volontà di Dio. Slegatelo. E' bellissima questa espressione, questo verbo di slegare, cioè togliere tutti i vincoli che impediscono la libertà. Slegare dice liberare, dice dare ali, dice movimento, dice capacità di poter andare lì dove la libertà della volontà decide. Slegare. Quindi questo puledro che è mansueto, che non è stato mai cavalcato da nessuno, viene cavalcato da Gesù nell'umiltà, nella mansuetudine. Puledro immagine proprio allora di Gesù, che va, avanza regalmente, ma in perfetta libertà di dono, senza legami, senza, possiamo dire, esperienze precedenti, ma nella libertà del dono, del dono della vita. E il dono della vita sarà proprio quando, oltre ad offrire il proprio corpo, nell'ultima cena, offrirà concretamente la sua vita nella passione, nella morte, nel dono. Ebbene, Gesù va a Gerusalemme. Oggi noi prenderemo i rami di olivo, li faremo benedire, li prenderemo benedetti, li porteremo nelle nostre case. Perché? Perché il ramo d'olivo dice proprio questa regalità di Gesù. Dice e ripete questo gesto di accogliere Gesù come re nella nostra vita, accogliere Gesù come signore della nostra storia, portare Gesù nella sua mansuetudine, ma anche nella sua ricchezza di dono, nella propria casa, nel proprio habitat, nel proprio mondo di lavoro, nella propria situazione. Quindi portare questo ramo d'olivo che ci dice legame tra il dono, ma anche il consumo del dono. Il ramo d'olivo che dice nello stesso tempo vita e morte, perché dall'albero, dalla cenere della quaresima, viene fuori l'albero della vita, che è la croce, che è la resurrezione. Ebbene slegate questo puledro nel quale nessuno è mai salito, perché dice Gesù che nella sua libertà fa il dono di sé e va liberamente verso Gerusalemme senza nessuna costrizione, anzi con più decisione anche quando coloro che gli sono accanto equivocano il suo andare, equivocano il suo modo di parlare, di agire, di comportarsi, ma Gesù va liberamente nella direzione giusta. Non c'è nessuna resistenza da parte del puledro, perché dice capacità di cedere alla dolcezza di Gesù, cedere al servizio che Gesù chiede, ma nello stesso tempo libertà di dire sì a Gesù, senza nessuna resistenza. Ebbene, in questa domenica, per ciascuno di noi, ci viene chiesto di slegarci. Slegarci da che cosa? Slegarci dalle prigionie, dei nostri mali, dei nostri limiti, dei nostri peccati, dei nostri pregiudizi. Slegarci dalle chiusure, slegarci dai fatalismi, slegarci dalle rassegnazioni, restare lì immobili, incapace di operare, incapace di creare movimento che creano libertà. Slegarci dalle indifferenze, slegarci dalle cattiverie, slegarci dalle invidie, slegarci dalle rabbie, dalle gelosie, slegarci da tutto quello che è negativo, slegarci da tutti i sentimenti che ci imprigionano, slegarci da tutti quelli che sono i vincoli che ci impediscono di andare con Gesù. Tutti quei vincoli che ci impediscono di essere in libertà con e in Gesù, slegarci. E mentre Gesù fa questo gesto e dice a suoi amici, slegatelo, oggi dice a ciascuno di noi, slegatevi. Cantate osanna della vostra vita, cantate il benedetto a Dio che si rivela nella mia vita, ma cantate anche la gloria della liberazione. Camminate con me, buttate tutte le catene, liberatevi, venite con me, anzi affidatevi a me, perché io, perché io in questo cammino di liberazione, in questo processo di libertà, io vi posso donare quella vera libertà che è l'amore di Dio, la libertà dei figli di Dio che è la salvezza, che è la redenzione. E allora questa Domenica delle Palme, mentre è la Domenica delle Palme della gloria dell'esultanza e anche la gloria della passione, ci dice che nella nostra vita queste due realtà convivono, ma queste due realtà si complementano. Mentre si va e si va cantando, si va anche piangendo, ma è importante andare nella consapevolezza che la vita, come quella di Gesù, ha un percorso, ma anche un traguardo. Quale traguardo? Il traguardo del dono, come quello di Gesù, il traguardo della libertà di donarsi liberamente senza constrizioni, il traguardo di arrendersi a questo amore di Gesù che con dolceccia ci chiede di slegarci, con dolcezza ci dice di affidarci a Lui, con dolcezza ci dice lasciatevi amare. Io dall'alto della croce vi abbraccerò e vi condurrò all'amore del Padre e vi darò in pieno la salvezza per te e per tutta l'umanità. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pace e ogni bene. Pace e ogni bene. Pace e ogni bene.